La prossima relazione di riassunto della sessione che si è tenuta è quella su identità in rete, anonimate riconoscibilità. Il professor Monti non è potuto rimanere ma ci ha mandato un testo che gentilmente Simone Aliprandi leggerà. Grazie. Leggo la relazione che mi è arrivata, io sono stato spettatore della sessione molto interessato e ho visto appunto stamattina che è arrivata via mail questa relazione che vi leggo. Le relazioni e il dibattito che ne è seguito hanno evidenziato innanzitutto la necessità di chiarire bene i termini della questione. L'anonimato non è necessariamente sinonimo di diritto alla privacy, come il concetto di identità non necessariamente confluisce in quello di identificazione. Si tratta di categorie distinte, anche se evidentemente correlate, che presentano problemi specifici in funzione dei punti di osservazione dai quali le si guarda. L'anonimato è uno strumento essenziale per il corretto esercizio dei diritti civili e in particolare di quelli politici. Consente ad attivisti e giornalisti che operano in paesi totalitari di far circolare informazioni e notizie senza esporre a rischi l'incolumità personale loro e dei loro familiari. La possibilità di creare identità online diverse può essere un modo per partecipare in maniera paritaria ad ambiti di realizzazione della persona, che altrimenti sarebbero preclusi a chi non appartenesse ad una specifica cerchia, consentendo così di valutare le idee espresse dalle persone senza il filtro dell'appartenenza etnica o sociale di chi le presenta. L'identificazione è una risorsa indispensabile per l'esercizio di attività online, ma non può trasformarsi in uno strumento di tracciamento sistematico della vita di una persona, né essere utilizzato per la tutela di interessi economici di parte, come per esempio il diritto d'autore, come abbiamo visto poco fa. Se tuttavia si è tutti d'accordo su questi punti, quando si parla di regimi canaglia, non accade lo stesso quando il dibattito torna invece in Italia. In questo caso infatti cominciano ad emergere distingue ed eccezioni basate su dei veri e propri fantasmi, evocati per gestire la paura come strumento di controllo. E dunque, per combattere terroristi, pedofili, ma anche la violazione della proprietà intellettuale, si propongono misure inutilmente repressive e inefficaci rispetto agli scopi dichiarati. Ovviamente il problema non è abbassare la guardia o avere atteggiamenti anche solo indulgenti nei confronti di chi delinque. Quest'oro devono essere appunto assicurati alla giustizia, processati e assoggettati a pena. Ma questo non può accadere facendo passare norme liberticide che negano la stessa natura di una democrazia occidentale, per spostare l'asse culturale dal paese verso una teocrazia che fonda uno Stato etico, dove la legge è costretta a cedere il passo agli interessi superiori. E dove lo Stato sa cosa è bene per i cittadini che devono semplicemente credere senza capire. La raccomandazione che emerge da questa sessione dunque è quella di recuperare i principi di civiltà del diritto che a caro prezzo sono stati definiti all'indomani della seconda guerra mondiale e di ristabilirne il rispetto. Solo elevando il livello di sensibilità e cultura delle persone sui principi fondamentali del diritto della persona sarà possibile evitare di precipitare nella barbaria. Grazie. Grazie.